Alla vigilia della commemorazione dell'anniversario della morte di Ettore Muti, gerarca fascista di origine Ravennate, ucciso il 24 agosto del 1943 a Fregene, provincia di Roma, le polemiche politiche non sono mancate e domenica sono arrivate a Ravenna un centinaio di persone da Parma, Bologna, Ferrara e da Ravennate appunto per ricordare Muti, ma la celebrazione non si è svolta al cimitero come negli anni precedenti, ma davanti al monumento dei marinai nel portocanale di Ravenna. Il motivo è che in realtà il corpo del gerarca non si trova più nel cimitero di Ravenna. Abbiamo dovuto stravolgerlo completamente perché purtroppo ci sono successi degli avvenimenti che hanno cambiato completamente l'organizzazione che da anni portavamo avanti nella commemorazione. Il primo punto grave ma forse capibile, quello della famiglia che ha voluto spostare la salma di Ettore Muti, cremarla e portare le ceneri in altro logo, onde diciamo evitare le crescenti discussioni, danneggiamenti eccetera da parte di antagonisti, di persone che non volevano che noi continuassimo a frequentare il cimitero e a commemorare l'Ettore Muti. Abbiamo deciso quest'anno così di commemorarla qui davanti alla statua dei caduti del mare, ma potremmo commemorarlo praticamente dappertutto perché Ettore Muti è dappertutto e questa è stata la prima scelta. La cosa più scandalosa diciamo per me, soprattutto per me, ma per tantissime persone anche di parte avversa politica diciamo, è stato il diniego da parte del Vescovo di farci fare una messa.